È possibile in pochi minuti creare le tavole con i riferimenti di colonna del disegno elettrico, inserire i cartigli e creare la struttura elettrica di base per il circuito elettrico previsto. Sono disponibili una grande quantità di simboli elettrici per impianti ed automazione industriale, dal semplice interruttore al contattore, ai relè e i riferimenti vengono creati automaticamente. Il posizionamento nella pianta della casa di prese, interruttori, scatole di derivazione e lampade avviene con estrema semplicità. Anche nel caso della pianta, la numerazione avviene in maniera automatica e veloce. Negli impianti di automazione industriale vengono semplicemente realizzate e collegate le barre di alimentazione dei circuiti di potenza e visualizzate con un semplice rendering 3D.